Sale a nove il bilancio delle vittime dell'hotel Rigopiano. Nella notte recuperati altri due corpi, i dispersi sono ancora venti. La procura di Pescara intanto indaga sull'allerta Slavine, arrivato quattro giorni prima della tragedia. Ci sarebbero dunque stati ritardi e sottovalutazioni, mentre emerge che il Rigopiano era stato costruito sui detriti di precedenti Slavine. Il Tribunale di Messina ha condannato a 11 anni Franco Antonio Genovese, ex parlamentare del Partito Democratico, poi passato a Forza Italia. Utilizzò illecitamente i finanziamenti erogati dalla Regione Sicilia a denti della formazione professionale. Condannate altre 19 persone, tra queste il cognato di Genovese Franco Rinaldi, ex deputato regionale del Partito Democratico, passato anche lui a Forza Italia. Le ultime immagini di Giulio Regeni diffuse dalla Procura del Cairo documentano l'incontro con Mohamed Abdallah, capo dei sindacati degli ambulanti egiziani. Il video che secondo la Procura di Roma è stato girato con una microcamera in dotazione alla polizia egiziana apre nuovi interrogativi. Oggi o domani al massimo la Corte Costituzionale deciderà sull'Italicum quasi certa la cancellazione del ballottaggio e l'opzione sui collegi, ma la consulta non lascerà vuoti normativi. Grillo accusa il Partito Democratico e Forza Italia di voler rinviare il voto, votare subito con il Legalicum e la maggioranza non si azzardi a rimetterci in mano. dice subito al voto attacca anche Salvini, ma una parte del Partito Democratico e Forza Italia spingono per votare nel 2018. 7.32, buongiorno, benvenuti al Telegiornale. Telegiornale che apriamo con le ultime novità che arrivano dall'hotel Rigopiano. Purtroppo la notte non ha portato buone notizie, non ci sono persone vive al momento estratte da quell'enorme cumulo di neve caduto sull'albergo. Cumulo di neve che però in qualche modo forse poteva essere previsto, almeno così dicono i report che annunciavano slavine nella zona 3-4 giorni prima che avvenisse per l'appunto l'incidente ed è solo l'ultimo di una lunga serie di equivoci e di allarmi non visti e non rispettati in questi giorni. Un equivoco durato 5 minuti, a tanto ammonta la durata della telefonata tra Quintino Marcella e il ristoratore di Silvi Marina che stava dando l'allarme e la funzionaria della prefettura di Pescara che con tono infassidito gli rispose l'hotel Rigopiano non è crollato e che questa storia dura da questa mattina e questo è il primo tragico errore che insieme ad altri ha provocato poi a catena il ritardo dei soccorsi, erano le 18.20 di quel maledetto mercoledì 18 gennaio. La procura indaga anche sulla prefettura, il CCS, il centro di coordinamento di soccorso che il prefetto ha attivato la mattina di quel giorno, qui infatti sono arrivate le telefonate di Giampaolo Parete e del suo datore di lavoro Quintino Marcella. I ritardi sono stati di circa un'ora, ha spiegato ieri il procuratore aggiunto della procura di Pescara Cristina Tedeschini, aggiungendo che l'incidente del ritardo non è di particolare rilievo. Gli inquirenti ora sono concentrati soprattutto su quello che è accaduto prima della tragedia. Il fascicolo di indagine tra poco si arricchirà della mappa geomorfologica dei bacini idrici della regione Abruzzo, un documento che testimonierebbe come l'hotel Rigopiano sia stato costruito sopra colate e accumuli di detriti preesistenti. Si sta indagando anche sul piano Valanghe, pare infatti che non sia stata fatta una mappatura completa a causa della scarsezza delle risorse economiche. Gli investigatori poi vogliono vederci chiaro sulla ristrutturazione dell'hotel e quindi studiare le carte del processo per corruzione del 2007, conclusosi con una sentenza di assoluzione. Vogliono capire se la concessione di lizia ottenuta dai proprietari sia in regola e conforme ai vincoli imposti dal parco del Gran Sasso. Intanto si continua a scavare e purtroppo bisogna aggiornare in negativo il bilancio della tragedia. Recuperati altri due corpi, il numero delle vittime sale quindi a nove, tra loro Linda Salsetta, la sorella di Fabio e il manutentore sopravvissuto. Dispersi per ora sarebbero 20, mentre rimane invariato il numero dei sopravvissuti, 11, ai quali però si è aggiunto il ritrovamento dei tre cuccioli di pastore Maremmano dell'albergo, segno che forse qualche speranza ancora c'è di ritrovare in vita qualcuno. Andiamo adesso in Sicilia, non per parlare del maltempo, ma per parlare di una vicenda di cronaca che arriva a conclusione, quella che vedeva imputato Frank Antonio Genovese, prima deputato del Partito Democratico e poi passato a Forza Italia, di aver speculato sui corsi di formazione professionale. Era il ras dei corsi di formazione in Sicilia, ma era anche un uomo politico da 20.000 preferenze. Frank Antonio Genovese, già sindaco di Messina e segretario regionale oltre che parlamentare del Partito Democratico. Sulla sua testa ieri è piovuta la prima pesante condanna, 11 anni dal Tribunale di Messina al processo scaturito dall'operazione Corsi d'Oro per l'uso illecito di finanziamenti erogati dalla regione siciliana a enti della formazione professionale. Il cognato di Genovese, Franco Rinaldi, ex deputato regionale del PD e ora, come lo stesso Genovese è passato a Forza Italia, ha avuto una condanna a due anni e mezzo, tra gli altri condannati anche le sorelle Schirò, Chiara, moglie di Genovese, ha avuto tre anni e tre mesi, Elena, moglie di Rinaldi, sei anni e tre mesi e poi Giovanna, tre anni e sei mesi. L'arresto di Genovese era stato ordinato dal GIP di Messina quasi tre anni fa, a marzo del 2014. Genovese era un parlamentare PD e il 15 maggio successivo, la Camera, autorizzò la richiesta di arresto nei suoi confronti. Il sistema messo a punto dal gruppo Genovese era ben collaudato. Gli indagati, grazie a prestazioni simulate, affitti gonfiati, al noleggio delle attrezzature e alla pulizia dei locali in cui venivano tenuti i corsi, avrebbero ottenuto finanziamenti extra approvati dalla regione, che erogava propri fondi assieme a quelli statali ed europei. I costi sarebbero stati gonfiati fino al 600%. Gli enti che facevano capo a Genovese, che venivano gestiti da alcuni suoi uomini fidati, si sarebbero accaparrati decine di milioni di euro di finanziamenti. Qualche giorno fa la Commissione Tributaria Siciliana ha stabilito che Genovese dovrà restituire 16 milioni di euro, che si ritiene siano stati sottratti al fisco e depositati in Svizzera. Siamo pazienti ma irremovibili. Questo è stato il commento dei genitori di Giulio Reggeni alla video che è stato mostrato ieri e che racconta di come il figlio abbia cercato in ogni modo di respingere le profferte e il tentativo del capo degli ambulanti di riuscire a ottenere soldi in modo, diciamo così, illegale. La Procura di Roma e il filmato, che è diventato pubblico solo dopo che due giorni fa è stato trasmesso dalla televisione egiziana, ce l'aveva già da dicembre dello scorso anno. Il procuratore capo Pignatone ha spiegato che quelle riprese non aggiungono e non dimostrano nulla di nuovo nell'inchiesta sull'omicidio di Reggeni. Le immagini che state vedendo ritraggono l'incontro tra Giulio ed il capo del sindacato dei venditori ambulanti del Cairo. Il ricercatore italiano però non sa che a quell'incontro il suo interlocutore si è presentato con una microtelecamera che gli è stata fornita dal servizio segreto interno egiziano e che ha nascosto in un bottone della giacca. Circostanze che poi però smentisce, sostenendo di avere fatto quella registrazione ma con il suo cellulare. Gli investigatori che già da tempo si stanno interessando all'attività del ricercatore friulano che per alcuni giorni è stato pedinato, adesso d'accordo con Abdallah che ha accusato Reggeni di fare troppe domande e quindi di costituire una minaccia per l'ordine pubblico del paese vogliono incastrare Reggeni. Dai tabulati telefonici è emerso che Abdallah ha spesso contatti con la sede dei servizi segreti interni. Nel filmato Giulio e Abdallah per 45 minuti parlano e discutono soprattutto di soldi. Reggeni gli ha detto che vuole chiedere all'organizzazione britannica con la quale collabora una borsa di circa 10.000 sterline, una somma che, spiega il ricercatore, potrebbe aiutare l'attività dei venditori ambulanti. Il capo del sindacato invece chiede che quei soldi gli vengano consegnati direttamente. Oltre ad usarli per fini professionali, spiega Reggeni, ne utilizzerebbe una parte per fare curare la moglie e la figlia malate. Giulio però è irremovibile e gli ribatte che quei soldi non sono i suoi e che quindi non possono essere usati per ragioni private. Parliamo ancora di soldi ma di tutt'altro genere perché la compagnia di assicurazioni triestina, la generale, ha acquisito i diritti di voto su 505 milioni di azioni di intesa San Paolo che sono pari al 3,1% del capitale attraverso un'operazione di prestito titoli che però fa scattare la regola delle partecipazioni incrociate. Di che cosa si tratta? In pratica di una mossa difensiva appunto di generali per bloccare la potenziale scalata di banca intesa San Paolo. Domani è previsto il consiglio di amministrazione del Leone, cioè di generali, per ratificare l'uscita di Alberto Minali, il direttore generale della società. Tra i motivi dell'addio delle manager ci sarebbero divergenze sulla governance con l'amministratore delegato Filippe Donnet. E' arrivato il grande giorno, il 24 di gennaio, attesa per oggi la sentenza della consulta alle 9 e mezzo c'è udienza e si riunisce, però la sentenza potrebbe arrivare anche domani sostiene qualcuno. E in realtà, secondo le parole addirittura del Presidente del Senato Grasso, comunque sarà necessario aspettare la pubblicazione delle motivazioni della sentenza, quindi ancora almeno un paio di settimane. Le forze politiche fremono, alcune in particolare invece perché vogliono andare subito al voto. La grande attesa per la decisione della Corte Costituzionale sull'Italicum, iniziata la notte stessa del risultato del referendum del 4 dicembre, è finita. Nel corso della giornata, o al massimo domani, la consulta si esprimerà sulla normativa in vigore mai utilizzata. Le previsioni della vigilia puntano su una sentenza che consegna una legge elettorale pronta per uso, in grado quindi anche di essere utilizzata senza un intervento del Parlamento, proporzionale, attorno unico, senza ballottaggio e molto probabilmente con premio di maggioranza al partito che totalizzi il 40% dei voti. Ma si tratta solo di previsioni. La decisione maturerà nelle prossime ore, tra i 13 giudici della Corte Costituzionale, Criscuolo sarà assente e Frigo si è dimesso. Ma il mondo politico è già in fibrillazione. I partiti sono divisi tra chi vorrebbe le urne subite e chi invece punta a tempi più lunghi. Per Beppe Grillo non ci sono dubbi. Elezioni immediate, anche perché, si legge sul suo blog, tra poco avremo una nuova legge elettorale pronta per l'uso, passata attraverso il filtro della legalità della consulta, il legalicum. È sufficiente adattare il legalicum anche al Senato per avere una legge omogenea per le due Camere. Ma Grillo deve anche fronteggiare un gruppo di dissidenti interni, il quale invece chiede una legge proporzionale pura, in coerenza con l'originaria proposta dei 5 Stelle. Tra coloro che invocano il voto subito da sempre c'è Matteo Salvini, che ripete la Lega dirà sia qualsiasi legge elettorale, purché gli italiani possano votare entro maggio e giugno al massimo. Grossomodo posizioni sovrapponibili, dunque quella del Carroccio e quella dei pentastellati, ma il Movimento non vuole equivoci per il futuro. E così Grillo smentisce ogni ipotesi di alleanza con Salvini e Meloni. Da decenni scrive sul suo blog complice della distruzione del Paese. Forza Italia intanto frena sul ricorso alle urne e chiede di nuovo una legge proporzionale. Per il PD il ministro Renziano del Rio a 8 e mezzo punta al voto subito e dice mi auguro che le forze politiche trovino l'accordo sulla legge elettorale, perché il voto del 4 dicembre è stato un segnale chiaro dei cittadini per tornare a votare. Ma non tutti al Nazareno chiedono elezioni anticipate, come la minoranza e non solo. E c'è un'altra sentenza che è molto attesa sicuramente da una persona, ovvero da Silvio Berlusconi che attende l'esito del ricorso a Strasburgo. La sentenza della Corte di Strasburgo su Berlusconi può arrivare entro il 2017. Che il ricorso ci fosse e stesse, seguendo il suo iter presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, lo si sapeva, ma è la prima volta che si profila all'orizzonte un suo capolinea nel 2017. A prospettarlo è lo stesso Presidente della Corte, Raimondi, con verosimile soddisfazione di Berlusconi, che in quel caso si ritroverebbe evidentemente per le mani una ragione in più per ritardare le elezioni politiche. L'auspicio dell'ex Premier è infatti che arrivi subito dopo l'estate la sentenza, perché l'intento è cercare di prolungare la legislatura perlomeno fino a ottobre. La strada per l'ex Presidente del Consiglio è comunque in salita. Da Forza Italia si fa sapere che a fine dicembre è arrivata a Strasburgo la memoria dell'Avvocatura dello Stato in difesa dell'impianto della contestata legge Severino. ribadisce che si tratta di una sanzione di tipo amministrativo e che può essere retroattiva. Lo staff legale del Cavaliere da parte sua è a conoscenza dei rilievi dell'Avvocatura dello Stato e sta preparando sotto la regia di Ghiedini una nuova memoria nella quale si contesta tra l'altro la decisione di votare la decadenza di Berlusconi con voto palese in quanto, questa è la tesi che viene ripetuta, si è violato il regolamento dello Stato. La sentenza di Strasburgo non mancherà di avere comunque ripercussioni dirette sull'equilibrio del centro-destra. Alle prese con le continue frizioni Forza Italia lega i primi che insistono sul proporzionale e ben poco propensi, come è noto, a votare subito, i secondi schierati per andare alle urne il più presto possibile. E arriva una precisazione dalla prefettura di Pescara sul numero delle vittime accertate attenzione nell'hotel Rigopiano. Si parla di 12 vittime accertate a oggi nel crollo dell'albergo e di 17 dispersi. I vigili del fuoco infatti hanno recuperato all'interno della struttura tre corpi senza vita non identificati di sesso maschile, nei quali appunto si cercherà di capire l'identità. Parliamo invece adesso di una polemica, una polemica che riguarda le pensioni, innescata ancora una volta dal Presidente, dallo stesso Presidente dell'Inps, Tito Boeri, che non è l'esina e non lo ha fatto già in passato, critiche alla manovra che riguarda per l'appunto il sistema previdenziale. Tito Boeri sfera un attacco senza precedenti alla riforma delle pensioni inserita dal governo Renzi nella legge di stabilità 2017. Per il Presidente dell'Inps la nuova riforma ha ancora forti iniquità, fa salire cioè il debito implicito scaricando gli oneri sulle generazioni future, con il risultato finale di vedere aumentare la spesa pensionistica a favore di categorie che hanno già fruito di trattamenti vantaggiosi. È importante, ha spiegato Boeri, valutare gli effetti di ciascuna riforma sul debito implicito pensionistico, l'insieme cioè degli impegni futuri che lo Stato assume nei confronti dei contribuenti attuali, dei pensionati e dei contribuenti futuri. In altre parole, dire che debito implicito è qualcosa che non ha valore significa affermare implicitamente che in futuro si taglieranno le pensioni. L'ideale, per Boeri, sarebbe calcolare l'impatto della spesa pensionistica su tempi più lunghi dei dieci anni a cui si è abituati, così da vedere gli effetti della redistribuzione su più generazioni. Un esempio? Se avessimo avuto calcoli del debito implicito negli anni 60, 70 e 80, le baby pensioni introdotte in Italia dal governo Rumor nel 1973 non sarebbero state mai varate perché ci si sarebbe resi conto degli oneri pesantissimi che introducevano. Immediata la replica del ministro per la coesione territoriale e del mezzogiorno, De Vincenti. Il miglioramento dei trattamenti pensionistici, varato con la legge di bilancio, è del tutto sostenibile per la finanza pubblica, sia nell'immediato che in prospettiva. Non è la prima volta che il presidente dell'Inps, in carica da dicembre 2014, dice la sua, contro misure dell'esecutivo Renzi, che non condivide. In passato ha mosso critiche sulla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, sui vitalizi dei parlamentari, passando per il contrasto alla povertà, fino a ricorso al pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio ed occasionale con i voucher. Su questi ultimi, visti gli abusi, il ministro del lavoro Poletti si è detto pronto ad un'eventuale riforma entro fine anno. Parliamo di Donald Trump, o meglio, parliamo innanzitutto degli effetti che ha avuto sulla borsa, per esempio quella americana ma anche quella di Tokyo questa mattina, la decisione presa ieri dal presidente, di cancellare innanzitutto il trattato trans-pacifico. La borsa ha chiuso in netto ribasso. Oggi Trump, fra l'altro, incontrerà gli amministratori delegati di FCA, quindi Sergio Marchionne, ma anche di Ford e di General Motors, per discutere della permanenza e del rientro di alcune aziende negli Stati Uniti. Tutto questo, appunto, in un clima di protezionismo, che era ciò che, peraltro, aveva annunciato e promesso in campagna elettorale. Lo aveva promesso e l'ha fatto tre ordini esecutivi in poche ore e Donald Trump comincia a cambiare l'America. Il primo, annunciato da tempo, è il ritiro dal trattato di commercio trans-pacifico, non ancora ratificato al congresso, che così diviene lettera morta. L'obiettivo del neopresidente è aprire una stagione di negoziati bilaterali dove tutto può essere rivisto e modificato. Nel mirino la Cina, accusata di manipolare la valuta e quindi l'equilibrio commerciale. È una gran cosa per i lavoratori americani, ha commentato Trump, che non a caso oggi vedrà i leader della grande industria automobilistica. A partire da Sergio Marchionne, accompagnato alla Casa Bianca dall'amministratore legato di General Motors, Mary Barra, e della Ford, Mike Fields. La colazione di lavoro per Marchionne arriva poco dopo le accuse sulla violazione degli standard per le emissioni diesel, lanciata dall'Associazione per la Protezione Ambientale, ancora sotto l'amministrazione Obama, assai più attenta del nuovo presidente, proprio alle questioni dell'ambiente. Dunque per FCA, con Trump al comando, potrebbe essere più facile negoziare una via d'uscita, forti anche del grazie ricevuto proprio dal presidente per un investimento da un miliardo di dollari, annunciato durante il Salone dell'Auto di Detroit. Il secondo ordine esecutivo è un blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, con l'eccezione del comparto militare. Per cominciare, sono parole di Trump in campagna elettorale, a prosciugare la palude di Washington. Il terzo è il taglio dei fondi federali alle organizzazioni non governative che difendono il diritto a terminare la gravidanza. Il Senato intanto dà via libera a Mike Pompeo, sarà il nuovo direttore della CIA, per lui il compito più delicato di sinnescare la bomba d'orologeria che mette in pericolo la presidenza Trump. L'inchiesta dei servizi sui possibili aiuti ricevuti da Putin per conquistare la Casa Bianca. Il momento di parlare al volo di sport, di calcio. Stasera ritorna la Coppa Italia, si gioca a Napoli. Fiorentina. La Coppa Italia affronta i quarti di finale con le sfide che davvero iniziano a profumare di alta classifica. Napoli-Fiorentina apre il programma della due giorni di questa settimana, destinata a chiudersi domani con Juventus-Milan, riedizione della partita che ha segnato la Supercoppa italiana ai rossoneri. Le squadre di Sarri e Sousa escono dal turno di campionato con un bilancio positivo, ma il rischio di sentirsi appagati è sicuramente più per gli azzurri. Ci sarà turnover di Avarà e Selinski, partiranno dal primo minuto mentre Allan e Jorginho saranno in panchina. In attacco confermato Amsic e turno di riposo per il belga Mertens. Per Juve-Milan invece il pericolo di sottovalutare la Coppa non esiste. Fra i dogmi di Allegri c'è proprio quello di non lasciare ai rival nessun obiettivo, Coppa Italia compresa. Montella proverà invece a motivare di nuovo i suoi usciti demoralizzati dalla sfida al Napoli e anche, bisogna dire, dal sorpasso in classifica subito da parte dei cugini interisti. Il conto alla rovescia del mercato prosegue, si è entrati nell'ultima settimana di affari. Si prospetta uno scambio fra Milan e Genoa per Niang, pronto a tornare in rosso-blu, e Lucas Ocampos. Sembra invece terminata l'offensiva della Roma per strappare De Freel al Sassuolo. Squin si vorrebbe tenerlo, ma sul francese è molto serrata la corte della Sampdoria. 7.51, subito Paolo Sottocorona, poi Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus. Noi ritorniamo come sempre dalle 7 di domani mattina. Buona giornata.